Ciao a tutti, bentornati in cappelleria. Oggi parliamo di idratazione con le nostre 24 bottles. Abbiamo due tipi di bottiglie, abbiamo la bottiglia Urban che è quella non termica e abbiamo la bottiglia termica che è una delle più vendute in negozio. Tiene il caldo 12 ore e il freddo 24 ore. Abbiamo quattro tipi di formato e abbiamo la bottiglia da 33 centilitri, la bottiglia da mezzo litro, da 8,50 e da litro. Novità della 24 bottles è il tumbler che ha una lattina dove si possono introdurre sia liquidi che meno liquidi, anche addirittura solidi, nel senso che ci sono persone che amano portarsi in ufficio il riso, freddo, la pasta o la zuppa addirittura. E qui abbiamo la possibilità di svitare il tappo e consumare o direttamente il cibo all'interno del tumbler oppure versarlo nel piatto o in altri contenitori. Qui possiamo utilizzarlo comunque anche per i liquidi in quanto c'è anche il beccuccio per bere. Se decidiamo di scegliere la bottiglia non termica, che è una delle opzioni che abbiamo, che è quella da litro grande o da mezzo litro Urban, abbiamo a disposizione comunque un cappottino in neofrene con cui possiamo rendere le bottiglie termiche per tre ore per il caldo e quattro ore per il freddo. Un accessorio molto carino e utile è questo infuser che noi possiamo utilizzare in qualsiasi bottiglia sia termica che non termica e in qualsiasi formato che ci permette di inserire all'interno dello stesso sia del tè che della frutta per aromatizzare l'acqua ad esempio o del caffè. Quindi possiamo fare sia gli infusi a caldo che gli infusi a freddo. Ci sono alcune bottiglie con l'infuser già di serie. Un altro particolare delle bottiglie che noi possiamo utilizzare ed è molto utile, molto comodo, è questo beccuccio che si chiama SportVid. Noi possiamo applicarlo a qualsiasi bottiglia, alcune bottiglie ce l'hanno già di serie come in questo caso, quindi vengono vendute già con il suo beccuccio oppure lo possiamo acquistare separatamente. Possono essere applicati sia alle bottiglie termiche che alle bottiglie non termiche. Tutti i tappi della linea 24 Bottles sono tutti a prova di fuoriuscita, quindi potete veramente portarveli indietro anche mentre fate sport, possono supportare qualsiasi sollecitazione e non uscirà mai una goccia d'acqua, quindi sono perfettamente impermeabili. Abbiamo inoltre anche questi piccoli accessori che a volte possono tornare utili, sono ad esempio il bottle tie che è un gancetto di gomma che si applica al collo della bottiglia e possiamo poi agganciarlo alla borsa o allo zaino. Ecco, un altro accessorio disponibile è il portabottiglia che noi possiamo mettere sulla bicicletta e quindi portarci sempre dietro la nostra 24 Bottles. Grazie. 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 Grazie.